Rapporti preliminari che indicano che un terremoto di magnitudo 5,8 si è verificato in Virginia alle ore 13.51 a Stern-Di-Lieft-Thiemann. Secondo l'USCS, agitazione è stata segnalata come estremo a Nord come a Nex York. Rapporti di scuotimento sono stati provenienti dalla zona di Nexendland. Secondo l'USCS, un terremoto di magnitudine 5,5 orientale degli Stati Uniti in genere può essere sentita fino a 300 millia di distanza. L'USCS ha riferito che l'epicentro del sisma è stato situato a Louisa, a sud-est di Carlottesville e non a ovest di Rickmond in Virginia.